Grazie. Come state? Molto bene. Ho fatto bene a dire un bello? Non ti sei offeso no? No no assolutamente anzi. Sono offeso io quando hai detto mezzo. E va bene ormai l'ho detto era una battuta. Dunque volevo farvi una domanda tutte e due. Ecco voi che non siete figli assolutamente di genitori famosi, ecco perché questo bisogna dirlo, chi vi ha aiutato? Chi mi ha aiutato? A te. Fammi pensare. Mi vengono in mente molti nomi di qualcuno che mi ha messo magari i bastoni tra le ruote. Ahia. Ma è l'ultimo dell'anno bisogna essere buoni. L'ultimo dell'anno faccio un appello approfittando della diretta televisiva che qualcuno mi aiuti nel lontano. Totto per favore aiutate. Ma non hai bisogno di questo ciavarro non fare il modesto. No no assolutamente. Hai le physique du role. Grazie Stefania. E passiamo all'altro al mezzo invece. Da chi sei stato aiutato? Io sono stato concepito da... mio padre è una persona di spettacolo e mi ha... dietro il palco però mi ha sempre aiutato. Devo dire che devo a lui questo piccolo grande amore. È bello dire questo, questo piccolo grande amore, è una cosa di Baglioni, citazione di Baglioni. Citazione per dire che sono innamorato di questo lavoro. Bene, questo è molto importante, insomma avere entusiasmo per il proprio lavoro. Cosa vogliamo dire ai testatori? Eh, lo vogliamo fare un augurio originale? Grazie.